Un'unione incontro di Confindustria, un'industria incontra. Stasera abbiamo un grande neurologo, Gianvito Martino. Gianvito Martino, bergamasco del 62, dal 2008 dirige, è direttore di neuroscienze a San Raffaele di Milano. È professore all'Università di Londra, è tra i fondatori di Bergamo Scienze, diciamo 300 o 400 pubblicazioni. È un grande. Stasera il titolo è molto divertente, tu non sai chi sono io. Ci parlerà proprio di questo. Io sono affascinato sempre da questo grandissimo cervello elettronico, da questo pc che abbiamo dentro di noi e che non riescono assolutamente a copiare con delle macchine. Ci parlerà un po' di questo e della differenza anche che c'è tra noi. E' qualsiasi computer di qualsiasi potenza che siamo mai riusciti a fare. Dirige e modera Armando Massarenti, giornalista del Sole 24 Ore. Bene, lasciamo parlare i nostri ospiti. Grazie e grazie dell'invito. Io farò una brevissima introduzione, ma solo per dire e contestualizzare questo libro in crisi di identità contro natura o contro la natura di Gianvito Martino. Gianvito Martino ho la fortuna di conoscerlo almeno da una decina d'anni. Con lui abbiamo fatto tante discussioni, direi anche tante battaglie, perché poi questo genere di argomenti sono argomenti che per lo più l'opinione pubblica considera abbastanza controversi. E questo libro è un libro che può sembrare, può turbare delle nostre credenze consolidate. Innanzitutto quello della identità. Tra l'altro il titolo molto bello della serata, tu non sai chi sono io, insomma lei non sa chi sono io, sarebbe di solito, che si dice quando si vuole imporre la propria identità, che è una cosa tipicamente italiana peraltro. Io mi ero divertito qualche anno fa in uno dei miei esercizietti di filosofia minima che faccio sul Sole della Domenica, a far vedere che c'era stata una sentenza che aveva condannato uno che aveva appunto usato la fatidica frase lei non sa chi sono io, come una sorta di via a una forma di egualitarismo. Però qui in discussione viene messo soprattutto la nozione di identità. Cioè lei non sa chi sono io, è ancora più radicale l'idea che qui mette in gioco Gianvito Martino. Cioè il fatto che l'identità è una nozione veramente molto 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 sfuggente. Socialmente ci sembrerebbe di no, tutto sommato, perché abbiamo la carta di identità. A parte che già il fatto di avere delle certificazioni forse ci fa pensare che il problema andava risolto con una certa radicalità. No, carta di identità, bene, tocco, ti abbiamo detto chi sei, questo è, ti abbiamo schedato, sei... Ma in realtà anche socialmente la cosa è molto più sfumata di quanto sembra. Se poi si va a vedere che cos'è la nostra mente, che cos'è appunto la nostra identità in senso più complessivo e anche più profondo, anche qui, e devo dire, le neuroscienze ci hanno fatto capire che forse Buddha non ha dato tutti i torti, no, nel dire che l'io è qualcosa di molto più instabile di quanto la nostra tradizione occidentale ci ha fatto pensare e perché ha insistito moltissimo su idee come la coscienza. Però non è questo il tema del libro in realtà, no? Questa è una premessa generalissima. L'identità, l'identità come un concetto piuttosto sfuggente. In realtà il vero tema del libro è un tema schiettamente biologico. Ora, devo dire che se uno legge la storia della biologia si rende conto che i biologi sono sempre stati abbastanza consapevoli del fatto che è difficile definire il vivente, è difficile classificare il vivente. Qui c'è un capitolo molto bello su Linneo, appunto, che è un grande classificatore del Settecento, una delle grandi imprese scientifiche in realtà. Io direi che le due imprese classificatorie più incredibili dell'umanità sono state quella di Linneo, appunto, e quella di Mendelef, della tavola periodica degli elementi, cioè dove si è riusciti a catturare praticamente con la tavola di Mendelef, addirittura in una sola tabella, tutta una classificazione di ciò che è la materia, no? Cioè di com'è fatta la materia, la tavola chimica, appunto. Nel caso di Linneo, invece, è questo tentativo pieno anche, tra l'altro, di ricchezza linguistica, di classificare appunto il vivente. Però è vero anche che, se si guarda anche le discussioni del Settecento-Ottocento, c'è già una nozione, la nozione di specie è qualcosa di molto sfuggente. Difficile trovare una definizione che ti fa identificare con precisione che cos'è una specie animale. E a volte le definizioni sono abbastanza grezze, no? Uno può dire semplicemente che sono gli animali che riescono a riprodursi tra di loro. Allora se due animali si riproducono, allora riescono a riprodursi, allora appartengono alla stessa specie. Questo libro mette in crisi questa e tante altre idee appunto di come si è tentato appunto di definire la specie. Ha un'altra caratteristica generale. Questo libro appare in una collana che è diretta da me, che si chiama Scienza e Filosofia, e ha tutte le caratteristiche tipiche che io voglio che i libri di questa collana abbiano. Cioè è un libro diciamo di frontiera, è un libro che ci parla di che cosa sappiamo noi oggi e di che cosa stiamo scoprendo, di cose che mano a mano si stanno scoprendo. Se voi guardate in cima a questo libro c'è una piccolissima immagine che è uno schizzo che purtroppo è difficile farvelo vedere, lo vedrete poi quando uscirete. E' un piccolo, ma lo conoscerete perché è una specie di alberello, anzi assomiglia più a un corallo che a un albero, con tante ramificazioni. E questo è il disegno che Charles Darwin ha fatto quando, e poi c'è scritto sotto una espressione, una piccola frase che è addirittura commovente, e dice I think, io penso, io penso che la vita sia fatta così. Cioè sia questo albero dove c'è un'unica origine e poi ci sono tutte queste diramazioni. Ecco, allora già in questa idea abbiamo due cose. Uno è il pensiero che si crea mentre si va creando. Noi troviamo addirittura in un diario di Charles Darwin il momento in cui lui dice io guardate il riassunto di questa mia tentativa di argomentazione che sto cercando di spiegare su come è fatta veramente la vita, su qual è l'origine della vita sulla Terra, è questo piccolo schema. C'è tutto riassunto qua. E quindi il pensiero che si fa. E l'altra idea è quella dell'unità del vivente, perché in quella immagine lì c'è l'unità del vivente. Allora qui siamo veramente nel tema dell'identità e della difficoltà all'interno di questa unità del vivente di trovare delle classificazioni. Non è che non sia possibile, ovviamente, ma però fuggono sempre un po' da tutte le parti. Le classificazioni servono in realtà, ma quello che ci fa vedere molto bene Gian Vito Martino è quanto poi invece sfugano, sia a livello macroscopico direi, sia a livello microscopico, perché poi Gian Vito Martino è un esperto di, soprattutto di cellule staminali, sapete quanto sono al centro dell'attenzione del dibattito pubblico, le cellule staminali, ma ancora di più di un tipo particolare di cellule staminali che peraltro fino a una decina di anni, 15 anni fa, non si sapeva neanche che esistessero, perché le cellule staminali si sa che stanno, sono quelle cellule che hanno queste capacità rigenerative, da qui, peraltro uno dei libri precedenti, che ha fatto Gian Vito Martino, è proprio sulla medicina rigenerativa, sulle possibilità che ci può dare per il futuro, e ci sono moltissime aspettative rispetto a questo tipo di medicina, è una vera rivoluzione medico-scientifica in corso, però si sa che le cellule staminali sono più o meno di due tipi, insomma, ma adesso queste cose ve le spiegherà meglio lui, ma insomma sono quelle embrionali e quelle adulte, cioè quelle embrionali sono quelle che appunto permettono la formazione di tutti i tessuti cellulari, e poi all'interno, quando poi invece l'organismo si è formato, ci sono altre cellule che sono sempre staminali, quindi con grandi capacità di rigenerazione, ma che comunque appartengono a quel determinato organo. Ecco, quelle del cervello non si sapeva se c'erano, poi correggimi se sbaglio, ma non si sapeva perché. E anche qui è un altro concetto molto legato a questa idea della dissoluzione dell'identità, e quindi anche della plasticità, che è l'altra parola chiave che c'è in questo libro. Il cervello si pensava, prima di scoprire queste cellule staminali, che fosse un qualche cosa che degenerava, semplicemente non si poteva più ricreare, cioè era qualcosa di molto statico. Invece si è visto che anche il cervello ha queste grandi capacità proprie di rigenerazione, grazie a queste cellule. Non che non ci sia un decadimento, però comunque ha in sé queste potenzialità rigenerative molto forti. Ecco, una delle cose che studia molto bene Gian Vito Martino è proprio questa. E poi questo libro però dice delle cose anche più pericolose, diciamo, no? Nel senso che qui siamo nell'ambito scientifico, ma poi ci dice anche che persino la distinzione tra i sessi non è così certa come i modi di riproduzione in natura sono assai più sfumati di quanto si pensa di solito. Insomma, la nozione di identità in questo libro viene fatta a pezzi in tutti i modi possibili e immaginabili. Mi sembra che ci sia anche un certo divertimento. E questo rende il libro molto godibilissimo, no? Perché c'è proprio l'idea di dire tu pensavi che queste cose sono di solito appunto dei pregiudizi, peraltro, che bisogna anche avere nella vita normale, per carità, ma che però, insomma, l'ambito scientifico tende a distruggere o perlomeno a problematizzare fino all'estremo. Ecco, dunque, questo è un libro, secondo me, che è davvero prezioso perché è capace di rimettere in discussione molte delle cose che noi sappiamo. È in un ambito assolutamente di frontiera, assolutamente di grande attualità. Qui ci sono descritte le ricerche di premi Nobel recentissimi, ma ne cito uno solo, che è quello che ha fatto questo strano miracolo, appunto, che anche questo mette in crisi l'idea dell'identità, è Yamanaka, il grande scienziato giapponese, quello che è riuscito a riportare una cellula adulta della pelle allo suo stadio originario. Lo dico grezzamente, tu lo spiegherai meglio, ma comunque allo suo stadio di cellula pluripotente, cioè una cellula che è in grado di rigenerare a sua volta tutti i tessuti, o meglio, che potenzialmente, adesso siamo ancora a uno stadio in cui questa cosa è abbastanza problematica, ma che comunque, insomma, ha in sé l'idea di un'identità, di un individuo ancora completamente diverso, cioè quindi ritornando allo stadio originario. Ecco, tutto questo è frutto della ricerca recente, di una ricerca ancora in corso, e questo rende ancora più affascinante le cose che Gian Vito ci dirà questa sera. Grazie. Grazie Armando, grazie Francesco per l'invito, molto cortese, grazie Armando per l'introduzione, grazie a voi per essere qui. e diciamo che questo libro nasce, è un libro che nasce già nel 2010, nella sua prima edizione, e ho sentito l'esigenza quest'anno, in qualche modo, di riprenderlo in mano e ripubblicarlo, perché, devo dire, le cose sono cambiate, sono cambiate anche rispetto a quattro anni fa. Quindi, come diceva giustamente Armando, questo, diciamo così, questo libro tratta di lavori in corso, tutt'ora in corso. Ma è interessante per due ragioni, perché, secondo me, la biologia ha avuto i suoi momenti d'oro, secondo me, nella seconda metà dell'Ottocento, e negli ultimi trent'anni, credo che gli sconvolgimenti che ha portato le convinzioni, alle concezioni biologiche di base, anche essi hanno avuto una nuova e una seconda rivoluzione negli ultimi anni, che valeva la pena in qualche modo stigmatizzare o ricordare in questo libro. Detto ciò, il primo concetto da cui parto, e da cui parte questo libro, è un concetto molto semplice, cioè noi viviamo all'interno dell'ambiente e pensiamo in qualche modo che siamo appunto un'entità identitaria estranea all'ambiente in cui vive. E questo è il primo errore sostanziale, perché noi non siamo solo, non siamo non solo estranei all'ambiente, ma siamo una simbiosi quasi perfetta con l'ambiente in cui viviamo. E il dato che vi dovrebbe far pensare a ciò è molto semplice, cioè il nostro corpo è fatto da 100.000 miliardi di cellule, 10 alla 14, e il nostro corpo contiene un milione di miliardi di microorganismi, cioè i microorganismi che ci colonizzano e che vivono in simbiosi con noi sono addirittura 10 volte di più del numero delle cellule che compone il nostro corpo. Addirittura abbiamo circa 2 kg di microorganismi che albergano nel nostro corpo. Alcuni li conoscete, no? Cioè la mamma che dice prendi fermenti lattici per la flora intestinale. Ecco, alcuni diciamo sono dei microorganismi in qualche modo utili perché ci aiutano in qualche modo a vivere meglio e a svolgere alcune funzioni vitali. Ma i microorganismi sono anche in qualche modo dannosi perché 9 milioni di persone al mondo ogni anno muoiono appunto per malattie trasmesse dai microorganismi. Questo per dire che l'ambiente è talmente connaturato col nostro io biologico che certamente durante l'evoluzione questa ragione, cioè questo connubio, è stato fondamentale per far sì che noi ci evolvessimo nel modo in cui ci siamo evoluti. E arrivo al punto, cioè l'evoluzione ha fatto sì che gli organismi viventi fossero formati da cellule. A voi sembra una banalità, ma non è così perché si è scoperto che noi eravamo fatti di cellule solo nel 1665, se volete la data precisa. Questo Robert Tuch guarda nel microscopio, guarda un pezzo di sughero, vede nel pezzo di sughero una serie di spazi vuoti che a lui sembrano delle cellette di fratti e quindi chiama cellula appunto quello spazio vuoto senza sapere allora che quello era uno spazio vuoto lasciato da una cellula che era morta. Lui pensava di aver identificato la cellula invece si era sbagliato, qualche anno dopo ovviamente lo capisce ma fatto sta che il termine viene cognato e si impara a capire, si capisce per la prima volta che noi siamo fatti da cellule. Questo però non è sufficiente perché 200 anni dopo un altro signore, un signore tedesco, Rudolf Virchow dice un'altra cosa fondamentale, cioè la famosa teoria cellulare cioè che ogni cellula proviene da una cellula preesistente. Anche questo vi sembrerà una banalità ci abbiamo messo 200 anni a capirlo ma non era una cosa così immediata perché c'era una serie di, diciamo così c'era una scuola cosiddetta preformazionista che pensava che noi fossimo già fatti già preformati, piccolini nella pancia della nostra mamma e che tutto sommato diventavamo grandi non tanto perché c'erano delle cellule che continuavano a duplicarsi ma perché dimensionalmente aumentavamo solo diciamo la stazza e questa è la seconda nozione fondamentale. La terza parte è che ogni cellula ha un ciclo vitale cioè esattamente così come gli organismi viventi nasce, cresce, si riproduce e muore. Questi tre concetti sono fondamentali per la ragione da cui, per spiegare la ragione da cui sono partito le ragioni del perché c'è questo connubio ambiente individuo cioè l'ambiente proprio perché è parte di noi può essere dannoso può essere imprevedibile può causarci dei danni anche irreparabili questo non è prevedibile e quindi durante l'evoluzione abbiamo sviluppato questo sistema cellulare che permette nel momento in cui il nostro corpo, un tessuto o una parte del nostro corpo, un organo subisce un danno, un danno imprevisto di poterlo riparare e quindi avendo delle cellule che sono in grado appunto di nascere, crescere, duplicarsi e in qualche modo morire questo sistema fa sì che quando c'è un danno quando c'è una mancanza numerica di cellule in qualsiasi organo del corpo delle altre cellule si riproducono e vanno a riempire il buco che si è formato e questo diventa fondamentale perché chiaramente l'ambiente è prioritario rispetto all'organismo perché è l'ambiente che lo può danneggiare e quindi in questo modo abbiamo creato un sistema un sistema cellulare che è in grado di rispondere alle esigenze ambientali o come diceva Darwin ad adattarsi all'ambiente in termini anche evoluzionistici la cosa è talmente eclatante che noi vi do alcuni numeri siamo a Confindustria quindi i numeri sono di casa noi produciamo 25 milioni di nuove cellule al secondo produciamo 500 milioni mezzo miliardo di cellule della pelle al giorno cambiamo il nostro scheletro completamente in tre mesi ricambiamo il cuore tre volte nella vita lo rifacciamo completamente addirittura in dieci anni sembra che noi si sia in grado di cambiare tutti gli atomi del nostro corpo quindi insomma quando il vostro compagno la vostra compagna vi dice che non cambiate mai ditegli che non c'è problema che voi cambiate con una rapidità addirittura imprevedibile e questo sistema cellulare è talmente potente a parte i numeri che vi ho dato che fa sì che in qualche modo l'organismo proprio nella sua continuo cambio di identità biologica in qualche modo determini il fatto che noi ci pensiamo come siamo noi ci alziamo la mattina lo dicevo prima Francesco ci guardiamo nello specchio ci riconosciamo quindi pensiamo di avere un'identità ma per mantenere quell'identità noi continuiamo a cambiare continuamente gli elementi che la scostituiscono e questo non è facile dal punto di vista diciamo anche dal punto di vista dell'immaginazione da capire perché noi probabilmente questo è un discorso credo lungo ma che in ogni caso io non sarei in grado di fare io credo però che la spiegazione a questo è che noi abbiamo un sistema di immagazzinamento delle informazioni che è un sistema classificatorio e questo è la ragione cioè insomma in qualche modo la natura si esprime in forme matematiche si esprime con i numeri quindi anche il nostro cervello ha una serie di limitazioni dal punto di vista della capacità di immagazzinare informazioni che è un sistema appunto che necessita di diciamo unire una serie di caratteristiche simili per poter identificare un determinato oggetto che poi è quello che ci fa pensare che noi siamo sempre la stessa cosa addirittura una cosa che a me personalmente sconvolge ma in senso positivo è che nel cervello come diceva Armando ci sono delle aree che continuano a rigenerarsi durante tutta la vita e l'area che si rigenera di più è l'ippocampo è una struttura insomma all'interno del cervello che cambia continuamente il 2% del suo peso secco diciamo ogni anno viene rinnovato ecco l'ippocampo è esattamente la parte del cervello dove noi immagazziniamo i nostri ricordi e questo secondo me è ancora più sconvolgente perché per mantenere lo stesso ricordo noi dobbiamo cambiare continuamente la struttura che in qualche modo lo immagazzina è come se noi avessimo un armadio ogni mese dobbiamo cambiare l'armadio per farci stare dentro i vestiti e quindi è una cosa che non è immediatamente percepibile e quindi credo che la difficoltà a ragionare su questi argomenti sia legata al fatto che non siamo diciamo mentalmente capaci di utilizzare un sistema non classificatorio i matematici direbbero continuo piuttosto che un sistema discreto e questo è un argomento importante però per sostenere questa tesi che insomma è un pochino più di una tesi perché ovviamente è sostanziata da una serie di dati sperimentali ho fatto una serie di passaggi che toccherò brevemente cioè sono andato a discutere del tema dell'identità a livello cellulare poi l'ho discusso a livello di genere quindi diciamo ad un livello superiore perché il genere maschio-femmina è l'unione di cellule che determinano poi il genere appunto maschile o femminile e poi sono passato alla specie che è diciamo la parte che dovrebbe racchiudere tutto un insieme di organismi viventi beh la cellula perché la cellula perché appunto è l'unità costitutiva della vita ma soprattutto perché negli ultimi anni grazie appunto a Yamanaka ma prima di lui anche a Gurdon che ha preso il premio Nobel con Yamanaka nel 2012 queste persone hanno iniziato a dirci beh guardate che la cellula che voi pensate come appunto un'entità statica è invece un'entità plastica cambia in base a dove si trova in qualche modo può assumere una diversa sembianza una diversa funzione e diciamo la scoperta più diciamo in questo ambito a metà degli anni 50 Gurdon inizia a capire un po' tutto questo perché prende un uovo una cellula uovo la priva del suo nucleo inserisce un nucleo di una cellula matura per esempio della pelle e vede che questo nucleo inserito in qualche modo riesce a ridare vita all'uovo e quindi in qualche modo conclude dicendo che nell'uovo e non nel DNA e tra l'altro questa è una cosa importante esistono degli elementi che in qualche modo riattivano il DNA per farlo tornare allo stato di DNA presente nella cellula uovo cerco di spiegarmi un pochino meglio cioè normalmente in biologia si pensa che una cellula quando abbia deciso di diventare una cellula della pelle o del cuore o del cervello a quel punto lo diventa e finisce lì cioè la cellula non può più tornare indietro invece con queste scoperte e con quelle poi di Yamanaka dopo si è invece capito che non è così diciamo molte cellule del nostro organismo proprio perché hanno questa interazione continua con l'ambiente possono cambiare destino d'uso possono cambiare forma possono cambiare funzione questo succede molto bene negli animali diciamo meno più semplici ce ne sono tanti per esempio ci sono dei lombrichi che voi direte ma chi se ne frega i lombrichi beh effettivamente i lombrichi devo dire ci hanno dato anzi Sidney Brander ha vinto anche un premio Nobel proprio per i lombrichi perché ci hanno spiegato invece molto di più di quello che possiamo pensare però i lombrichi si dividono le potete dividere in 20 parti ad ogni parte si riforma il lombrico una cosa non so la coda delle lucertole insomma che è sempre la domanda che fanno tutti le chele dei granchi insomma ci sono tante strutture che questo può succedere perché quando per esempio una chela di un granchio viene amputata le cellule che stanno attorno alla zona di danno tornano a diventare cellule embrionali quindi da mature differenziate cellule dei peli della pelle dei muscoli e così via tornano a essere embrionali e poi da lì cioè dalle cellule da cui sono derivate si risviluppano per dare origine alla struttura che viene a mancare queste ricerche sono state talmente importanti che a un certo punto Shinya Yamanaka nel 2006 fa capire che questo tipo di atteggiamento che è proprio della natura perché tenete presente che noi in laboratorio non facciamo nulla di strano stiamo solo cercando di riprodurre quello che la natura fa in laboratorio la natura non si può stravolgere non possiamo andare contro le regole fondamentali della natura quindi riproduciamo solo quello che in qualche modo la natura sa già non possiamo creare qualcosa che vada contro le forze naturali le quattro forze fondamentali che regolano comunque il nostro universo ma detto ciò Yamanaka prende queste cellule della pelle scopre quali sono diciamo i geni che fanno sì che queste cellule possano diventare cellule embrionali inserisce questi geni nella cellula io la faccio breve ma è stato problematico tecnicamente vede che da questa cellula della pelle questa cellula torna indietro allo stadio embrionale cioè torna indietro allo stadio da cui poi l'organismo da cui è stata prelevata la cellula si è sviluppato noi queste cellule le facciamo in laboratorio e vi garantisco che prendere una propria cellula della pelle trasformarla in una cellula embrionale guardare in un pozzetto del laboratorio le cellule dell'embrione da cui tu sei stato generato insomma fa una certa impressione e chiaramente è una scoperta talmente eclatante che giustamente in sei anni rarissimo caso nella storia questo Shiyamanaka vince un premio Nobel quindi sostanzialmente questa scoperta in qualche modo mi ha fatto venire la voglia di raccontarla scrissi al tempo un editoriale sul Corriere quando ci fu la scoperta nessuno se n'era accorto io ci rimasi un po' male perché continuavamo a dibattere embrioni mica embrioni di qua e di là i scienziati come al solito a posto di dibattere si erano chiusi nei laboratori e avevano risolto il problema perché a quel punto non servivano più embrioni sovrannumerari o creati per la ricerca per ottenere cellule embrionali ma nessuno se n'era accorto evidentemente era più l'aspetto ideologico come sempre che prevaleva rispetto all'aspetto razionale ma detto ciò questa fu una scoperta talmente importante che adesso la maggior parte dei laboratori nel mondo possono ottenere cellule embrionali molto semplicemente da qualsiasi soggetto banalmente prelevando poche cellule della pelle o addirittura ultimamente con un banale prelievo del sangue e quindi sostanzialmente questa cellula matura della pelle che uno si immagina sia la cellula più meno nobile del corpo addirittura non è non ha quella fissità biologica che si poteva pensare avesse e può essere trasformata in una cellula embrionale quindi proprio il cambio di identità da questo punto di vista è abbastanza evidente è abbastanza sostanziale dopodiché anche lì un gruppo tedesco pubblica un lavoro e un lavoro in cui dimostra che togliendo semplicemente un gene dei 30.000 presenti un topo adulto femmina diventa maschio cioè le ovaie si trasformano in testicoli pochi anni dopo un gruppo americano fa l'opposto tira via un piccolo gene da questo genoma immenso e un topo femmina no un topo maschio diventa femmina dal punto di vista dell'aspetto sessuale e allora lì ho provato a capire un po' di più e ho provato a cercare di ragionare un pochino sull'aspetto del genere cioè del maschio e della femmina e la prima cosa che è abbastanza incredibile è che noi pensiamo al sesso come ad un metodo riproduttivo e questo è una stupidaggine nel senso che certamente il sesso è un metodo riproduttivo ma prima cosa in biologia riproduzione cellulare vuol dire una cellula che diventano due mentre normalmente la riproduzione sessuata sono due cellule che diventano una uno spermatozoo e un uovo quindi proprio concettualmente già facciamo fatica in biologia spermatozoo vuol dire cellula sessuale piccola e uovo cellula sessuale grande nulla di più e nulla di meno non c'è nessuna valenza diciamo sovrastrutturale ma la cosa interessante ancora più interessante è che la riproduzione può avvenire senza sesso nel senso che durante l'evoluzione per circa 3 miliardi e mezzo di anni gli organismi viventi si sono riprodotti in maniera assessuata semplicemente una cellula si divideva in due e dava origine a due cellule figlie che a loro volta davano origine alle progenie degli organismi viventi diciamo di nuovo conio e questa non è una cosa banale perché da questo punto di vista pensare che la differenza di genere tra maschio e femmine sia legata a un semplice gene dei 30.000 che abbiamo vi fa capire fin da subito che comunque non c'è questa straordinaria differenza e che la differenza che noi in qualche modo notiamo è una differenza legata soprattutto una sovrastruttura culturale la seconda cosa è che normalmente gli embrioni sono femmine non sono maschi e decidono di diventare maschi solo se decidono di non essere più femmine e questo è fondamentale perché la femmina per definizione rispetto al maschio è in tutto molto meglio è in dubbio questo perché ma non tanto per una questione femminista ma perché la femmina è in biologia il tipo di genere che garantisce la procreazione e quindi per forza è stata diciamo dotata di una serie di sistemi molto più efficienti e sofisticati e questo è un punto che vale la pena sottolineare poi mi dilungo anche un pochino sul discorso del cervello del cervello maschio della femmina insomma i cervelli sono tutti uguali bisogna saperli usare non è questione di genere insomma ultimamente sono pochi quelli che li usano secondo me in maniera adeguata ma detto ciò e allora a questo punto mi sono scagliato diciamo su una serie di concetti che sono concetti secondo me contaminati da una profonda ignoranza ovvero sia e qua vengo al sottotitolo al concetto di contronatura normalmente si identificano gli omosessuali femmine o maschi che siano come persone che hanno comportamenti contronatura beh questa è una bestialità è una stupidaggine grossolana perché se c'è una cosa che la natura ci insegna è che la natura è multisessuale ci sono tutta una serie di esempi ne faccio tanti non mi dilungherò dai pesci agli squali agli uccelli le tartarughe addirittura le zanzare che sono metà femmine metà maschi i polli i bufali insomma che hanno o decidono di essere femmine o maschi quando e solo quando devono riprodursi quindi nel momento in cui ci sono poche femmine in un gruppo decidono di comportarsi come maschi e addirittura in alcuni animali gli organi sessuali cambiano addirittura aspetto oppure viceversa se ci sono troppe femmine decidono di diventare maschi per garantire la riproduzione quindi l'aspetto sessuale è puramente il sistema oggi più efficiente per riprodurre e per riprodurre la specie non è l'unico sistema è solo un mezzo che noi utilizziamo per poterci riprodurre in maniera efficace è a tal punto vera questa cosa che si pensa già che probabilmente tra 20 e 30 anni la riproduzione per esempio sarà solo in vitro si farà con la fertilizzazione per una semplice ragione perché è molto più efficiente la riproduzione naturale ha un'efficienza del 30% la riproduzione artificiale sta arrivando diciamo ad avere dei livelli di efficacia e efficienza molto più alti e quindi si pensa per esempio che il sesso tra 20 o 30 anni sarà solo puro divertimento non sarà lo strumento attraverso il quale noi ci riproduciamo ma vado più in là perché queste cellule questa IPS adesso vedi i maschi come al solito che fanno le solite facce vabbè ma abbiate pazienza è un limite nostro non dovete non so come dire attribuirlo a tutti e poi un altro giorno vi racconterò anche perché il maschio pensa di essere dominante tra l'altro pensa di esserlo semplicemente perché imita le mucche addirittura pensate che tipo di pensiero diciamo in qualche modo sofisticato utilizza ma detto ciò la cosa però addirittura che forse potrebbe sconvolgere ma che non deve sconvolgere è che proprio per questo discorso delle cellule che ritornano indietro le cellule di Yamanaka adesso noi dalla cellula e dalla pelle possiamo fare sia uova che spermatozoi quindi è possibile che in un futuro io probabilmente non lo vedrò perché sono già i capelli bianchi si addirittura la fertilizzazione in vitro non dovremo neanche donare uova o spermatozoma basterà fare un piccolo prelievo del sangue trasformare le nostre cellule in spermatozoi in uova e poi farli fecondare artificialmente quindi il concetto di sesso inteso come lo intendiamo noi è un concetto legato puramente a un momento particolare dell'evoluzione della nostra specie che dura da mezzo miliardo di anni voglio dire quindi tutto sommato alla fine non è proprio così banale ma che in questo momento è solo esclusivamente il sistema è più efficiente tra l'altro ci sono degli squali che femmine che addirittura si auto fecondano non hanno neanche bisogno del maschio con un sistema che si chiama partenogenesi che quindi tutto sommato ci fa dire ancora di più che effettivamente il comportamento multisessuale che è un comportamento ovviamente dal punto di vista dell'evoluzione molto più utile perché se io sono multisessuale in base alle condizioni ambientali che erano quelle dell'inizio che non posso prevedere posso determinare eventualmente un accoppiamento che è riproduttivo il terzo argomento è la specie che già Armando aveva vi ha anticipato perché anche qua facciamo fatica a capire cos'è una specie tenete presente che poi dalla specie si fa in fretta ad arrivare alla razza e si fa in fretta a sentire non so come dire una serie di stupidaggini legate alla razza noi siamo tutti neri e tutti africani e veniamo dall'Africa siamo una razza sola non siamo tante razze giusto per mettere i puntini sulle i ma il punto della specie è ancora più clamoroso perché noi identifichiamo addirittura la razza dovrebbe essere un sotto insieme della specie addirittura noi classifichiamo ci sono più di non mi ricordo il numero qua devo un milione e mezzo di specie qualcosa del genere e ogni anno noi classifichiamo 15.000 nuove specie di organismi viventi ogni anno quindi ovviamente per definire la specie la definiamo non rispetto al contesto che andiamo ad analizzare perché troviamo delle specie che hanno caratteristiche diverse ma perché quelle specie che noi consideravamo diverse accoppiandosi tra di loro perché le barriere della specie ce le avevamo solo nella nostra mente producono nuovi tipi di organismi viventi beh con i cani per esempio lo si sa penso al pastore tedesco penso al pastore svizzero insomma chi vuole ai cani sa benissimo che tante specie sono state create appositamente attraverso degli incroci teoricamente la specie dovrebbe essere quella che fa sì che due individui di organismi di genere diverso si possano copiare in maniera naturale e dare origine ad una prole che è una prole vivente quello dovrebbe essere il concetto di specie ma non è così ed è a tal punto vero che il terzo esperimento da cui possiamo partito per ragionare è un esperimento fatto da Craig Venter che è un personaggio insomma molto famoso è quello che ha clonato il genoma durante il progetto genoma questa insomma persona molto molto diciamo così controversa ma certamente anche molto brillante che a un certo punto ha cambiato la specie di un microbo ha preso un microbo un microbo un microorganismo perché sono piccolini hanno un DNA piccolino con 500-600 paia di basi noi ne abbiamo 3 miliardi e 2 per dirvi la differenza ha tolto il DNA da questo microorganismo ha inserito il DNA di un altro microorganismo di un'altra specie e questo altro microorganismo ha cambiato specie solo ed esclusivamente con una diciamo così operazione di laboratorio ma questo è legato al fatto che non c'è una barriera di specie e allora lì racconto un po' di aneddoti credo anche carini insomma che le specie si inventano per esempio quando uno ha l'amante scopre un'orchidea dà il nome dell'amante insomma per fare un po' come la storia delle stelle insomma ce ne sono talmente tante ma la cosa interessante è proprio sull'orchidea perché l'orchidea viene regalata insomma impegno d'amore a questi uomini che veramente non capiscono niente l'orchidea è sostanzialmente potrebbe essere considerata la prostituta dei fiori perché per potersi riprodurre si deve accoppiare con un fungo è una simbiosi micorriziale se volete il termine tecnico però insomma il concetto è che si deve accoppiare con un fungo perché questo fungo in qualche modo diciamo così elimina come si chiamano quelli che si usa l'omega 3 per quando per non invecchiare come si chiamano i radicali liberi ecco questo fungo diciamo catabolizza nella radice dell'orchidea questi radicali liberi che sarebbero dannosi li elimina e l'orchidea può crescere quindi l'orchidea in base dove il seme si va a trovare si accoppia con chi capita e è talmente vero questo che ce ne sono un'infinità di specie di orchidea che cambiano tutti i giorni vengono inventate tutti i giorni e di conseguenza anche a livello di specie nella 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 pratica diciamo ce ne sono molte addirittura ci sono dei microorganismi che si infilano nelle uova fecondate di altri organismi per succhiare diciamo il cibo da queste uova per crescere quindi ci sono delle chimere diciamo di organismi viventi in natura che sono straordinarie ci sono anche chimere diciamo così nel 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 corpo umano per esempio questa è una cosa bellissima si trovano per esempio nel bambino appena nato si trovano tante cellule della mamma che in qualche modo gliele dona e che adesso non sappiamo esattamente cosa fanno ma certamente riescono a convivere bene con l'organismo o con un altro organismo ci sono per esempio persone trapiantate uomini che vivono con reni di donne o con cuori di donne e viceversa insomma che sono delle chimere però queste insomma non fanno granché impressione però quando dobbiamo codificare i comportamenti siamo sempre pronti insomma a dare la patente di natura o contro natura e quindi da questo punto di vista e qua concludo e poi se volete discutiamo anche più nel dettaglio se avete curiosità cioè la natura è qualcosa che conosciamo molto poco conosciamo tuttora molto poco stiamo iniziando a riprodurne parti diciamo anche consistenti nei laboratori attraverso questi esperimenti riusciamo a conoscerla sempre di più ma certamente se c'è una cosa che la natura non è non è neomofoba non è transessuale non è scusate non è omosessuale o contro gli omosessuali non è contro la razza non è contro la specie e quindi alla fine utilizzare questi termini inizio a pensare anche se lo pensavo già da prima che sia esclusivamente uno strumento ideologico che viene utilizzato giusto per in qualche modo creare la situazione affinché due ideologie si scontrino e non si incontrino perché la natura invece tende a fare incontrare le diversità non tende a in qualche modo isolarle dal contesto e poi uno potrebbe dire sì ma chi se ne frega i pesci voglio dire e beh anche questo è un ragionamento abbastanza superficiale perché noi organismi cioè l'uomo è un organismo vivente anche lì si dice l'uomo non si dice la donna non si è mai capito perché anche la donna diventa neutra quando si chiama l'uomo questo è un problema culturale ma il punto è che questi organismi da questo punto di vista tendono proprio a continuamente a cambiare e sfruttano ovviamente questa capacità plastica della natura questa possibilità di cambiare questa possibilità di incrociarsi anche tra incroci diciamo non convenzionali perché comunque la finalità è soprattutto quella della perpetuazione della specie quindi uno dicevo prima i pesci possono anche non importare ma siccome noi non siamo in grado perché siamo cosiddetti consumatori secondari non siamo in grado di generare il nutrimento essenziale che ci serve per vivere perché siamo cosiddetti organismi eterotrofi cioè dobbiamo assumere energia dall'ambiente dobbiamo mangiarli pesci o comunque nella catena alimentare dobbiamo mangiare altri organismi viventi per poter sopravvivere infatti gli unici organismi viventi cosiddetti autotrofi cioè che se la cantano se la suonano e si arrangiano per loro sono le funghi le piante e così via che possono garantirsi la quantità di energia necessaria e diciamo così il tessuto il nutrimento necessario per sopravvivere senza aver l'aiuto di nessuno quindi non possiamo non pensarci parte di un ecosistema quando ci fa comodo e considerarci parte dell'ecosistema quando ci fa altresì comodo o uno o l'altra credo che la biologia da questo punto di vista sia stata per me una straordinaria opportunità per mettere in luce questi argomenti e per sperare o provare a cercare di far capire o di spiegare alle persone che effettivamente quando uno parla di comportamenti contro natura sceglie deliberatamente di essere contro la natura grazie grazie perché veramente siamo riusciti a sentire una carrellata di idee e di veramente scoppiettante dove molte delle nostre intuizioni sono state messe a dura prova a me piace leggere c'è una parte appunto in cui dice molto bene nel libro a pagina 144 gianvito dice per ottenere per ottenere questi cambi identitari trasformiamo le cellule manipolandole in laboratorio ma se possiamo manipolarle perché le cellule sono intrinsecamente manipolabili intimamente pronte ad essere reindirizzate verso un altro destino cioè sono naturalmente manipolabili sono lì apposta per essere per cambiare completamente ora anche questa idea che molto spesso si sente nei dibattiti non manipoliamo il vivente ecco anche questo è un altro dei pregiudizi che dobbiamo assolutamente abbandonare e poi devo dire questo discorso che abbiamo appena sentito dovrebbe vaccinarci per sempre appunto dall'uso improprio della della parola natura ecco dell'essere pro natura contro natura perché la natura appunto è una cosa molto più complicata di quanto i nostri pregiudizi ci vorrebbero far credere a me veniva in mente ecco una cosa forse volendo approfondire alcuni punti sarebbero vari che potrebbero essere c'è anche un piccolo motivo di dissenso nelle cose che tu hai detto che vorrei tirare fuori dopo ma prima cosa quando tu citavi l'ipotalamo lì mi veniva l'ipocampo scusa l'ipocampo lì mi veniva in mente una Proust cioè potremmo andare appunto in un ambito letterario nel senso che molto spesso anzi questa stessa spasticità che tu che tu descrivi è esattamente quello di cui parla Proust nella ricerca del tempo perduto perché cosa fa Proust nel continuare a riraccontare le proprie le proprie vicende tra l'altro le racconta a volte in modi leggermente diversi che è esattamente quello che noi facciamo continuamente cioè per rendere stabile questa in qualche maniera questa memoria che sta lì nell'ipocampo continuiamo a riraccontarci questa storia quindi la nostra identità è una continua narrazione e c'è un'identità quasi assoluta tra il modo letterario di raccontare questa cosa e il modo in cui ce lo raccontano oggi appunto le neuroscienze e questo trovo sia particolarmente interessante poi sempre per sfondare i confini a me piacerebbe citare a proposito dei vermi mi veniva in mente che c'è uno dei libri più incredibili di Charles Darwin che è L'azione dei vermi che è un libro che è scritto come tutte le cose di Darwin devo dire è scritto divinamente e che racconta appunto di come c'è questo verminaio appunto da cui dipendono tantissimi fenomeni questo era un libro che era stato particolarmente lodato da Giuseppe Pontigia proprio per la capacità di scrittura che veniva fuori in Charles Darwin nel parlare appunto di cose diciamo tra virgolette normalmente poco piacevoli ecco quindi quello che tu hai fatto è un po' questo cioè riuscire ad andare in controtendenza rispetto a tanti i nostri pregiudizi riuscendo a fare quello che in genere riesce a fare la scienza quando è al suo meglio cioè attraverso delle spiegazioni che il senso comune non accetterebbe ma che se sono sviluppate nel modo giusto in una maniera molto chiara alla fine risultano assolutamente accettabili anche se stanno smantellando completamente tutto il nostro sistema di credenze sì devo dire che questo paragone mi fa piacere perché io all'inizio di ogni capitolo riporto un pezzo di uno scrittore che in qualche modo mi ha colpito e volevo leggervi questo se lo trovo perché come al solito poi quando si cerca non si trova di di vediamo 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 che era una una cosa scritta all'inizio allora ci arrivo subito eh santo 3 cosa scriveva per esempio quando quando si parlava dal simposio di platone quando si parla dell'identità di genere lui diceva parliamo del punto 400-300 avanti Cristo ma innanzitutto bisogna che conosciate la natura della specie umana e quali prove essa ha dovuto attraversare nei tempi andati infatti la nostra natura non era quella che è oggi ma molto differente allora c'erano tra gli uomini tre generi e non due come adesso il maschio e la femmina ne esisteva un terzo che aveva entrambi i caratteri degli altri il nome si è conservato sino a noi ma il genere quello è scomparso era l'ermafrodito un essere che per la forma e il nome aveva caratteristiche sia del maschio che della femmina questo secondo me è fondamentale perché per esempio gli ermafroditi che sono una realtà e non sono neanche pochi non trovano spazio nella nostra società in teoria che è una società divisa tra generi e dove li mettiamo? cioè allora la cosa più facile che noi facciamo è quello di ghettizzarli in qualche modo di metterli no? perché probabilmente questo ragionamento cioè il fatto che non ci torni un genere ibrido fa sì che probabilmente per paura per un banale istinto di difesa noi in qualche modo li confiniamo li nascodiamo per non vederli perché se li vediamo in qualche modo ci sollecitano magari dei pensieri non così non so come dire non così fluidi ma questi esistono allora se noi vedessimo la natura un po' come io ho cercato di descriverla anche questi aspetti tutto sommato darebbero certamente meno problemi insomma spaventerebbero di meno perché poi alla fine credo che sia la paura rispetto alle diversità che in qualche modo ce le faccia considerare tali non so come dire le caratteristiche razziali non so esistono cioè le persone con la pelle scura sopportano meglio il sole di quelle con la pelle chiara ma le caratteristiche razziali spesso sono utilizzate per sviluppare degli atteggiamenti razzistici perché il fatto di avere caratteristiche diverse proprio per questo sistema nostro classificatorio fa sì che noi li poniamo al di fuori di un contesto che noi riteniamo normale quindi voglio dire è una non so come dire è un libro di protesta se vuoi a un certo punto che alla fine fa dire per cortesia cerchiamo di ragionare delle cose serie non facciamoci condizionare da dei preconcetti o pregiudizi come diceva Armando che sono pregiudizi che sono illogici che non fanno parte appunto della nostra natura ecco su questo in realtà io avrei un po' da dissentire nel senso che io credo che questi pregiudizi in un'accezione un po' diversa dell'idea di natura fanno parte della nostra psicologia cioè della nostra del nostro tentativo disperato di tenere a posto le cose insomma di dare un ordine alle cose che ci circondano e questo in effetti è molto naturale cioè è sbagliato ma è molto naturale per cui nell'idea di natura c'è anche questa idea degli errori cognitivi che noi facciamo sistematicamente per sopravvivere per esempio il razzismo anche si spiega in questi termini perché c'era un libro che aveva un titolo lo cito soltanto perché il titolo è bellissimo di Barbujani e Pietro Cheli sono razzista ma sto cercando di smettere ma il titolo è molto bello perché rimanda al fatto che siamo tutti un po' razzisti e dovremmo però cercare di smettere ma smettere è difficile proprio come è difficile smettere di fumare perché ci è molto naturale pensare che ci siano delle differenze perché? perché se poi si va a vedere cosa hanno studiato gli psicologi evoluzionisti si è capito che questo meccanismo riguarda un meccanismo molto antico dell'individuare subito le persone di cui ci possiamo fidare e quelle di cui non ci possiamo fidare e quindi l'effetto familiarità che noi abbiamo con le persone simili a noi fa sì che pensiamo che ci possiamo fidare di quelle e che invece non ci possiamo fidare delle altre tra l'altro questa cosa può essere anche giocata in un altro senso per esempio Obama quando aveva proprio sfruttato questo tipo di meccanismi per rompere il pregiudizio perché cosa aveva fatto? Aveva puntato sul fatto che il forte pregiudizio che c'era nei suoi confronti all'inizio poteva essere controbilanciato appunto dall'effetto familiarità cioè io mi faccio vedere in televisione centomila volte la gente a un certo punto dirà che beh è un individuo piuttosto gradevole da vedersi però comunque l'effetto razziale è sparito grazie all'effetto familiarizzazione quindi insomma bisogna poi giocare anche io credo che tu abbia fatto molto bene a fare un libro così che è molto netto nell'andare a scandagliare i pregiudizi però teniamo anche conto che i pregiudizi hanno a loro volta una loro origine che è un'origine biologica poi cioè dipende dal fatto che noi siamo dei classificatori nati dobbiamo mettere ordine nel nostro mondo sono d'accordissimo poi sei tu il filosofo non io è giusto che tu faccia questa parte questa è una filosofia sono scienze cognitive ha molto ragione Armando in quello che dice devo dire che questo tema l'ho trattato nel libro precedente perché certamente noi pensiamo al nostro cervello come un'entità razionale ma il nostro cervello ragiona in maniera irrazionale completamente irrazionale e tra l'altro proprio a casa di economisti lo dico perché i primi diciamo tentativi non tanto i primi tentativi i primi esperimenti in questo senso sono stati fatti proprio nell'ambito della neuroeconomia perché si è cercato di capire perché la teoria classica non funziona come è evidente insomma soprattutto dal 2008 ad oggi adesso non arrivo a dire come diceva Einstein che gli economisti sono stati inventati per far fare bella figura agli astrologi l'ha detto Einstein non l'ho detto io però è vero è vero che la teoria classica dell'economia si basa su una serie di presupposti logici cioè come si comporterebbe un individuo in maniera razionale poi a un certo punto sono arrivate una serie di persone Herbert Simon Tersky Daniel Kahneman che tra l'altro hanno vinto anche il premio Nobel in economia pur essendo psicologi e hanno dimostrato invece che ci sono una serie di tunnel della mente che ci condizionano nei comportamenti per esempio l'avversione alle perdite quindi quando noi ragioniamo in termini monetari certamente il fatto che noi abbiamo più paura di perdere di quanto ne abbiamo di vincere fa sì che noi condizioniamo il nostro atteggiamento rispetto per esempio a una scommessa ci sono tantissimi tunnel della mente uno abbastanza semplice che se io per esempio vi dico che questi due elementi costano 110 euro insieme tutti e due e questo costa 100 euro più di questo la maggior parte di voi mi dirà che questo costa 10 euro questo invece costa 5 euro e questo costa 105 questo giusto per dirvi tra l'altro la cosa interessante è se qualcuno di voi ha pensato che questo costa 10 euro anche quando uno gli spiega che se la differenza è 100 euro costa 5 non lo capisce allora ma detto ciò ci sono una serie di tunnel della mente per esempio quando noi siamo al casino e per 20 volte esce il rosso la volta dopo la maggior parte di noi scommette sul nero ma la probabilità la volta dopo che esca il nero e il rosso è la stessa identica ce ne sono tantissime si arriva addirittura ai dilemmi morali si arriva addirittura a pensare anzi oramai si è dimostrato che anche in decisioni morali cioè uccidere o far sopravvivere una persona subentra questa irrazionalità perché siamo irrazionali beh siamo irrazionali perché il nostro cervello ha sviluppato un sistema di filtraggio di informazioni che quando riceve un input deve immediatamente percepire se quell'input è pericoloso per la sopravvivenza e questo vuol dire cioè se quella determinata situazione potrebbe mettere in discussione l'aspetto riproduttivo l'aspetto alimentare e la difesa dall'aggressore quindi scrina le informazioni tenendo presente questo concetto di base se in qualche modo quello che ci succede è un diciamo così pericoloso per la nostra sopravvivenza a un certo punto il nostro comportamento diventa automatico e non diventa più razionale cioè noi introduciamo il concetto di razionalità dopo che abbiamo esplorato sostanzialmente se quello che stiamo vivendo è pericoloso per la nostra sopravvivenza faccio un esempio banale se mettete la mano se mettiamo la mano sul fuoco non stiamo a pensare se ci bruciamo o meno la togliamo punto e basta non facciamo un discorso razionale che ci porta all'età della pietra e al valore che ha avuto il fuoco per l'evoluzione tiriamo via la mano ecco di questo si capisce ancora poco di come funziona poi questo meccanismo complicato ma certamente come diceva Armando ci sono questi tunnel della mente che si dividono in euristiche che sono modi di pensare proprio sbagliati e bias cosiddetti che sono errori sistematici che fan sì che noi non ci comportiamo da persone razionali qual è il problema il problema è che questo discorso è un discorso pericoloso perché poi la responsabilità individuale rispetto al ragionamento che sto facendo potrebbe venire meno e quindi bisogna stare molto ma molto attenti non so come dire ad andare troppo in là sapete che adesso c'è la neuromania tutto è neuro si capisce cosa voglia dire ma c'è neuroestetica neuroeconomia neuromarketing neurovate la pesca che sembra che faccia in qualche modo insomma fa audience diciamo così poi se si va a guardare all'interno di ogni singola capitolo diciamo di indagine si capisce che non c'è molto dicevo prima Francesco che noi in questo momento riusciamo a studiare dal vivo un cervello che funziona e a capire come funziona se è composto da più o meno mille neuroni cioè il cervello appunto di un lombrico il famoso progetto che Obama nel discorso della nazione del 2013 visto che l'ha citato Armando e questo famoso brain project che lui dice investirò 200 miliardi di dollari e in 15 anni avremo sconfitto tutte le malattie del cervello e così via poi le persone insomma serie e che insomma fanno meno pubblicità hanno fatto un po' i calcoli e in 15 anni investendo queste cifre forse riusciremo a vedere il funzionamento di un cervello fatto da 75 70-75 milioni di cellule che è il cervello di un topo noi abbiamo 100 miliardi di cellule di neuroni nel cervello quindi il salto diciamo di scala è enorme e quindi molto molto difficilmente riusciremo a capire a raggiungere la meta evanescente come diceva Primo Levi del cervello che conosce se stesso perché c'è anche qua sì che c'è un problema filosofico il cervello che è quello che noi pretendiamo di conoscere poi lo strumento che utilizziamo per conoscere quindi è difficile poter dire se veramente ci riusciremo però non sono fatti nostri perché alla fine se succederà o ce lo verranno a ridire dovunque saremo oppure difficilmente lo potremo capire anche perché non vivremo di certo come spera anche oggi Berlusconi ha detto che sta riprendendo in mano diciamo l'idea di vivere fino a 120 anni qualcuno dovrebbe dire che si è sempre vissuti fino a 120 anni anche un milione di anni fa anzi un milione di anni fa no anche 10.000 anni fa il problema è che ce ne arrivavano pochissimi pensate a Matusalemme adesso ne arrivano di più perché le condizioni di vita sono migliorate ma noi abbiamo un limite biologico infatti la riproduzione sta sempre diminuendo se noi avessimo la nostra specie realmente stesse evolvendo anche la riproduzione dovrebbe aumentare in termini di età invece quella rimane statica e aumenta solo la vita media quindi voglio dire siamo probabilmente alla fine della nostra specie intesa come la intendiamo noi cioè ci sarà un'evoluzione ma detto ciò insomma questo cervello quindi è irrazionale però cosa possiamo fare attenzione perché questo non ci deve in qualche modo limitare nelle nostre nelle nostre attività cioè sapendo che abbiamo queste irrazionalità di fondo dovremmo in qualche modo una volta capita dovremmo utilizzarla per creare una società migliore faccio un esempio mi riferisco a Obama e a Cameron cioè se noi viviamo in una società di obesi perché distribuiamo i cibi sugli scaffali dei supermercati solo in base al prezzo o al marketing che fa una determinata ditta e non in base alle calorie cioè noi quando andiamo al supermercato sappiate tutti che scegliamo in maniera abbastanza capibile individuabile cioè i prodotti sono messi lì perché noi li scegliamo lì messi in quel modo non pensate quando andate al supermercato di essere così razionali di scegliere il prodotto giusto i miei colleghi economisti lo sanno bene questo effettivamente è neuromarketing beh in una società civile secondo me in cui il problema dell'obesità ricordatevi che noi dal dal quintultimo posto come percentuale di obesità nei bambini dai 5 ai 17 anni siamo arrivati al terzo posto nel mondo per tasso di obesità dopo Messico e Stati Uniti quindi siamo in una condizione drammatica allora a questo punto forse un ragionamento rispetto al cervello irrazionale che sceglie il prodotto lo farei perché dico Obama e Cameron perché Obama e Cameron hanno messo in piedi un gruppo di consulenti un certo Tyler da cui nasce tutto hanno creato un gruppo che fa da consulenza a questi due signori proprio per studiare questi aspetti perché finché lo fa il privato profit va benissimo fa parte del lavoro deve guadagnare e se il cliente in qualche modo si fa bindolare fa parte del gioco il problema è che da noi lo fa il pubblico e quindi il pubblico pensiamo ai giochi d'azzardo pensiamo al tabacco pensiamo all'alcol insomma finisco lì è talmente evidente mezzo milione di morti all'anno per cirrosi epatica non parliamo di quelli per tumori ai polmoni e non parliamo delle patologie legate al gioco però gioca non col cuore ma col cervello ho sentito dire nell'ultima pubblicità di Lottomatica quella che deve quanto 80 miliardi di tasse al nostro Stato beh insomma mi sembra una presa in giro forse su questo dovremmo anche fare un ragionamento e sfruttare a questo punto il cervello irrazionale la stessa cosa la potremmo fare anche sul concetto di razza di specie o quant'altro che tu in qualche modo cioè educare le persone a capire che noi la pensiamo così proprio perché abbiamo un limite intrinseco non perché siamo diciamo così particolarmente cattivi o cidiosi posso aggiungere riassumerei così le cose che tu hai detto che sono tutte assolutamente perfette che noi ci sono alcuni errori cognitivi che non si possono correggere quello che facevi tu prima del e che cioè come è che fai fatica a correggere io ho un altro che è ancora più semplice questo qua se voi guardate non so se si vede qui sono due linee che sono identiche è notissimo è una delle prime cose addirittura degli anni 20 del 900 e questa cosa qua voi potete anche se sapete che le due linee sono identiche continuerete a vederle una più lunga e l'altra più corta quindi ci sono degli errori cognitivi che non si possono cioè tu sei consapevole di fare l'errore ma non lo puoi tutti gli errori cognitivi invece di cui parla questo libro sono errori che si possono correggere cioè sono errori che basta sapere come stanno le cose e uno d'ora in poi se ha capito bene non farà più questo tipo di errore cioè uscirà da questo tipo di pregiudizio ora la questione vera però dell'Italia è noi vogliamo uscire adesso al di là di questi pregiudizi del libro ma rispetto a quelli che dicevi su cui si sono impegnati molto Obama e Cameron io ho l'impressione io ho lanciato questa idea anche dalle pagine del sole della domenica di creare una tax force simile a quella Matteo Motterlini che è quello che in Italia sta portando avanti questo tipo di discorso quello tipo che è quello non so se ne avete mai sentito parlare della spinta gentile di Sunstein è stato qua anche esatto ebbene i nostri amati politici non hanno reagito minimamente cioè l'idea era di costituire una sorta di consulenza per il governo che studiasse questo tipo di cose che appunto spingesse in maniera appunto gentile si chiama nudge in inglese verso i comportamenti più virtuosi naturalmente con tutta la consapevolezza del paternalismo che ci può essere in questa cosa qua però comunque se fatto appunto in maniera soft ecco bene io temo che in Italia questa sensibilità non ci sia ancora e quindi bisognerà sarà forse una delle delle battaglie che dovremo fare nel prossimo futuro però adesso se c'è qualcuno di voi che vuole avere qualche altra delucidazione spiegazione fare domande curiosità che abbiamo tempo prego no non ha problemi una subito al volo le cellule si rigenerano e cambiano così velocemente qual è il limite all'immortalità al cambiare sempre le nostre cellule e restare no questa questa Francesca è una domanda cruciale che io devo dire ho trattato nel libro e mi sono dimenticato nella mia diciamo parte iniziale di raccontarti cioè le cellule hanno un ciclo vitale perché tu dici beh ma che senso ha continuare a produrle ucciderle no se fosse un sistema continuo il problema è che l'unica cellula immortale è la cellula tumorale quindi la morte è necessaria all'interno del ciclo vitale perché differentemente una proliferazione continua determinerebbe la crescita di tumori quindi il fatto che una cellula a un certo punto invecchia e muoia è fondamentale per evitare questo rischio perché invece la cellula tumorale continua a proliferare finché fa massa e il tumore poi diventa un tumore maligno quindi la morte fa parte della vita anzi la morte è necessaria alla vita dal punto di vista biologico non sono scindibili e a questo punto di vista è per quello che credo poco diciamo nella vita eterna anzi non ci credo per niente e credo che sarebbe solo una grande faticaccia sono d'accordo con lei quando ha esplicato che ogni sette o dieci anni cambiamo io cambio tutte le mie cellule del mio corpo fisico chiedo chi è l'architetto o il professionista che guida questa camera questo cambiamento perché se non se lo dichiariamo che è delle mie cellule allora io posso mi viene mi viene freddo se devo pensare che una cellula delle mie unghie dirige questa cosa e dovremmo togliere dal linguaggio la parola biografia perché la biografia di ognuno di noi continua e rimane fedele a se stesso altra domanda perché abbiamo paura di usare la parola spirito noi siamo vittimi del concilio ecumenico vaticano dell'869 tenuto a Istanbul Costantinopoli allora dove è stato abolito lo spirito la trinità è stata abolita non la capiscono più hanno detto l'essere umano è costituito di corpo fisico e di anima spirito non c'è più noi siamo vittime ma perché abbiamo paura di usare la parola spirito ma io la domanda dobbiamo farti e io le chiedo le faccio tre domande e mi dica lei se sono vietate da dove vengo quando nasco chi sono e dove vado quando morirò ma guardi dunque chiaramente c'è una domanda a cui non si può dare una risposta però attenzione io non sono credente quindi non ho la possibilità di ragionare con lei allo stesso livello intellettuale me ne scuso però ho molto rispetto per chi crede io addirittura penso che la vita si figuri nasce ancora quando un uomo o una donna o magari fra un po' due cellule si guardano negli occhi quindi non ho questo tipo di problema il punto però qual è ed è la critica che faccio alle persone diciamo che mi fanno questo tipo di domanda è che voi o che voi diciamo chi è credente va a chiedersi le cose sbagliate cioè nella biologia ci sono dei misteri straordinari tuttora inspiegabili che non sono quelli che dice lei uno su tutti in un sistema adesso non vorrei essere complicato ma lei sono sicuro mi comprende in un sistema in cui per la seconda legge della termodinamica noi andiamo sempre verso un continuo disordine la cellula è l'unico strumento che fa ordine potrei andare avanti non so come dire ce ne sono ci sono una serie di informazioni biologiche su cui a me piacerebbe e che diciamo sollecito spesso il dibattito perché a cui non saprei rispondere ma certamente da dove nasciamo lo sappiamo cioè nasciamo dall'unione tra un nuovo e uno spermatozoo su quello non c'è dubbio se lei toglie lo zigote a qualsiasi stadio lei lo tolga durante un processo di gravidico non si forma una vita quindi su quello siamo certi che nasciamo da una cellula adesso sappiamo una cosa in più sappiamo che non è tutto quindi dove andiamo beh non è tutto nel dna anzi forse addirittura nel dna c'è una minima parte perché abbiamo iniziato a capire che esiste un processo cosiddetto epigenetico sopra la genetica per cui il dna può mantenere la sua struttura fisica ma cambiare il comportamento in base a sollecitazioni ambientali c'è un esperimento molto bello fatto anche lì lo riporto fatto nei topolini se la mamma topo non accudisce non lecca e non accarezza i propri cuccioli questi cuccioli da grandi saranno meno capaci di resistere a sollecitazioni stressanti questo nasce dal fatto che questo accarezzare questo accudire genera degli impulsi sensoriali che attivano quattro atomi uno di carbonio e tre di idrogeno che si vanno ad attaccare a una determinata proteina sul dna che poi fa sì che nella zona del cervello dove si percepisce lo stress ci siano meno recettori in grado di percepire lo stress che è un qualcosa di fisico cioè identificabile con delle molecole e quindi quando sono accudite questo cervello in qualche modo è meno stressabile quindi i nostri comportamenti sono fondamentali io sono contento per esempio che il papa dice quello che dice sono felice quando lo sento dire perché c'è chi pensa che sia un prevosto come si dice nelle mie parti di campagna cioè che sia un po' troppo banale ma attenzione che la banalità secondo me è un'altra cosa ma le cose che dice dalla suo pulpito servono perché comunque tra virgolette riescono a condizionare non solo psicologicamente ma anche fisicamente questo per dire che tutti i comportamenti anche quelli del singolo individuo lasciano una traccia biologica non sono solo parole al vento dire chi siamo non lo so che era la terza domanda ho risposto come insomma coi miei limiti come ho potuto ma non saprei dirle altro c'è c'è un passo del Faust di Goethe che dice più o meno che si muore per vivere e non si vive per morire che mi sembra che sia molto coerente con la conclusione del suo discorso io le pongo tra questioni veda lei cosa può pescarci dentro una visto che è stato citato Proust mi lancio su delle cose filosofiche mi sembra un'interessante convergenza la riflessione sull'identità fatta la riflessione della psicologia e della filosofia che la vede non come qualcosa di stabile come una specie di sostanza e di origine la riflessione sull'identità che non la vede come qualcosa di stabile come una specie di sostanza di originario di puro che andrebbe mantenuto di carattere immutabile ma viceversa come una narrazione e quindi come una narrazione come qualcosa che è un progetto in divenire non solo ma che non viene fatto individualmente ma viene fatto sempre in relazione con gli altri sono gli altri che ci rimandano un'immagine che ci permettono di raccontarci in un certo modo quindi mi sembra che c'è una convergenza tra questa riflessione psicologica l'altra cosa era questa riguardo al tema della libertà in qualche modo come una sorta di postulato che ci permette di dire siamo dotati di responsabilità e cioè mi domando se non saltando a un livello di complessità superiore date le condizioni che sono condizioni materiale biologiche eccetera noi non possiamo immaginare la nostra possibilità di scelta come qualcosa di molto simile al disegnino di Darwin sulle copertine del libro di questa collana cioè dire che date certe condizioni noi siamo in grado di seguire in qualche maniera strade evolutive diverse che non c'è necessariamente un percorso ma possono esserci risposte efficaci differenti come nel corso dell'evoluzione alle mutate condizioni ambientali ultimo aspetto più biologico stringo noi ci spaventiamo ma in realtà stiamo modificando la struttura genetica delle piante degli animali dal neolitico in poi quindi non è una cosa molto nuova l'unica cosa molto nuova è la rapidità di queste trasformazioni che contrasta con una certa lentezza diciamo così culturale nell'adattarci e se quindi il pericolo non è tanto nella mutazione in sé ma nella nostra incapacità culturale politica eccetera eccetera di gestire questi processi che sono diventati molto più rapidi grazie allora la prima e la terza domanda sono completamente d'accordo con lei quindi non le do una risposta perché lei ha detto quello che avrei detto io la seconda è molto complicata le rispondo così e le do anche se vuole un suggerimento per approfondire in ambito neuroscientifico ci sono due teorie una è di questo Edelman e un'altra di un signore che si chiama Jean-Pierre Changé nella collana di Scienze e Idee di Cortina ci sono entrambi i libri tra l'altro abbastanza recenti Edelman propone la teoria del darwinismo neurale Jean-Pierre Changé produce cioè insomma propone un'altra teoria ma la sostanza è questa noi abbiamo una serie di circuiti preformati che ci vengono diciamo dati naturalmente durante il nostro sviluppo embrionale che poi durante la vita adulta accendiamo in qualche modo in base alle esperienze ambientali ma è un set di circuiti finiti ok oppure questo set di circuiti non è finito che è un po' più la prima teoria è quella di Changé e questa è quella di Edelman e quindi con la nostra esperienza ambientale siamo in grado di stimolarne la produzione di altri queste sono sostanzialmente le due teorie più avanzate sono teorie perché come le ho detto l'unica cosa che riusciamo a studiare è un cervello di 900 neuroni di un lombrico e quindi non c'è una risposta entrambe le teorie sono date da Edelman che è un premio Nobel per la medicina e da Jean-Pierre Changé che è uno dei più grandi forse il più grande neurobiologo della seconda metà del 900 e devo dire che sono due libri molto complessi ho fatto fatica a leggerli anch'io pur essendo del mestiere però non c'è una risposta alla sua domanda se non attraverso queste due teorie che mi sembrano le più adeguate a poterle rispondere ci sono altre domande direi che qui c'è una ecco direi adesso se ce ne fossero forse l'ultima domanda poi non ce ne sono più che sennò le raccogliamo e poi chiudiamo prego bravissimo perché io l'ho seguita con molta attenzione e alla fine però mi sono trovato fortemente in dubbio quando lei ha usato il termine razionale e irrazionale ma chi stabilisce ciò che è razionale e ciò che è irrazionale il scienziato ci dice certe cose no ha ragione ma la razionalità diciamo in qualche modo viene assimilata al comportamento logico cioè nel senso che una un comportamento ha come finalità quello data la conoscenza dei presupposti che determinano il comportamento ha come finalità la massimizzazione del risultato è la logica che ci consegna il termine di razionalità ma sono d'accordo con lei forse non è quello che esprime esattamente quello che poi alla fine il cervello riesce a elaborare però mi sono sbagliato io non ho non ho specificato il termine no 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 ma ha ragione non ho specificato il termine da cui partire ma Armando di queste cose non sa più di me qui soprattutto in questo libro quello che rimane sempre sotto traccia è la questione del rispetto dei fatti cioè come dire cioè è razionale colui che tiene conto di alcune cose che si sanno sono fattuali che sono conosciute questo secondo me può sembrare strano ma ha anche un aspetto interessante dal punto di vista politico in questo nostro paese cioè perché molto spesso si fanno leggi che non rispettano i fatti e molto semplicemente quindi ci troviamo di fronte a dei paradossi che durano anni e anni e anni che poi vengono corretti soltanto suon di sentenze della Corte Costituzionale mentre invece basterebbe fin dall'inizio basarsi sui fatti e quindi secondo me questo è anche un esercizio che va al di là di tutte le cose che abbiamo detto questa sera insomma è un po' un monito di cambiare un po' aria ecco perché forse sono gli ultimi vent'anni abbiamo avuto una politica poco attenta soprattutto nell'ambito scientifico devo dire soprattutto dove si trattava di legiferare su questioni che avevano come sottofondo fatti di questo genere ma anche le staminali perché voi tutti avrete seguito la questione del metodo stamina e lì ci sono state deliberazioni pubbliche assolutamente folli da questo punto di vista però lascio a te l'ultima parola io direi che possiamo chiudere qui mi sembra sia stata una bella discussione oltre che una bella esposizione a parte lasciare lasciare chiudere al professor Martino vi ricordo che il prossimo incontro sarà il 7 luglio sempre alle 20 e 30 e andremo a parlare di una parte che lui ha sfiorato perché il relatore sarà Paolo Veronesi figlio del professor Veronesi direttore dell'istituto europeo di oncologia quindi andremo a parlare di come cercare di far vivere le persone io lascerei chiudere al professor Martino grazie ancora vi leggo la controcupertina l'ultima frase perché credo che sia quella tra l'altro che mi piace di più di tutto il libro dice proprio la mancanza di identità a rendere possibile la vita ed è il concetto di plasticità in contrapposizione a quello di identità a caratterizzare la natura se assumiamo questo sguardo gli sviluppi della scienza ci spaventeranno di meno perché ci riveleranno ciò che la natura sa già da miliardi di anni e le questioni ideologiche legate a tematiche di tipo sessuale specista o razziale non potranno così più ammantarsi di una inesistente realtà biologica ed additare come contro natura certi comportamenti assolutamente naturali significherà ignorare la realtà delle cose scegliendo deliberatamente di essere contro la natura grazie di tutto grazie a tutti e buona serata grazie a tutti grazie a tutti